perché quando io lavoravo con i gatti facevo il tecnico con loro tu hai fatto il tecnico delle luci per un po' di anni siamo attingiti insieme hai fatto anche l'autista per un certo punto no mai, non avevo la patente no, per quello l'hai fatto, perché una volta so che hai accompagnato Gerry eh, ma stai facendo due cose prima il letto dei grassi sì il letto dei grassi perché gli altri erano talmente magri sì e io e Smaila, e Smaila allora era abbastanza snello io stavo benissimo, veniva fuori no, queste qua sono postum precedentemente qui ci voleva già il letto dei grassi invece quando eravamo ragazzi però per gli altri allora chi dormiva nel matrimoniale quando c'erano i letti che si andava all'avventura allora il letto dei grassi era il nostro invece io poi facevo facevo il tecnico però non prendevo la patente perché ovviamente come tecnico avrei dovuto guidare io certo ecco, vedi, io sono quello lì a destra eh nel gruppo, vedi beh, bel ragazzo eh c'era poco dei grassi eh, quello lì, bel ragazzo che eri eh beh, perché dovevo fare schifo no, dico, però lo so anch'io come ero eh si ricordano in tanti c'è stato un passato, diciamo c'era un prima, ecco grazie a tutti